Anticipazioni il segreto, lunedì 16 dicembre 2019. Prudenzio pretende da Lola tutta la verità, ma lei tergiversa, affermando di aver agito nel giusto solo allo scopo di aiutarlo. Ma lui non può capirlo e la vede come una spia di Franziska, ma gli assicura che le cose non stanno affatto così. Antolina senza farsi scorgere da nessuno si sbarazza di una grande quantità di materiale esplosivo, ma commette l'errore di nasconderlo in cortile. Isaac intanto finge di partire. Antolina contenta pianifica di uccidere la laguna perché crede che in questo modo avrà campo libero con il guerrero. Pertanto quando resta da sola con la sua ex padroncina le provoca deliberatamente una forte crisi. La laguna sta molto male. Maurizio promette a Raimundo che rispetterà i patti che ha preso con Irene. Smaschereranno Fernando a poco a poco. Lui invita però a tenere gli occhi ben aperti e soprattutto a vigilare su Maria.